A quattro giornate dalla fine della regular season, il Lane Rossi Vicenza sconfigge 2-0 il Trento di Mister Tedino, mostrando alcuni piccoli segnali di ripresa rispetto alle gare precedenti. Il Lane è chiamato ora ad un Tour de Force che lo vedrà impegnato da giovedì 6 aprile con la difficile trasferta di Crema, dove troverà ad attenderlo una pergolettese obbligata a vincere per entrare nel gruppo play-off. Martedì 11 aprile di nuovo il campo per la finalissima di ritorno della Coppa Italia e poi ancora domenica 16 aprile ospiterà al Menti il Pordenone prima dell'ultima di campionato con il Piacenza che potrebbe a quel punto non avere più nulla da chiedere al torneo. A presto! A presto! A presto! A presto!